Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. I finanzieri del comando provinciale di Pescara, nell'ambito del piano d'azione Stop Fake, hanno posto sotto sequestro e ritirato dalla vendita più di un milione di articoli giocattolo e carte da gioco considerati non sicuri. La controffensiva delle fiamme gialle pescaresi contro il business milionario della contraffazione scova dunque nuove violazioni al codice del consumo in materia di sicurezza dei prodotti. I militari hanno rinvenuto articoli privi delle istruzioni, prescrizioni e destinazioni d'uso in lingua italiana. Giocattoli, risultati non in regola. Le sanzioni possono superare i 25 mila euro. Una fotografia sulla rete imprenditoriale della produzione e distribuzione, nonché import-export di giocattoli, evidenzia come da tempo il settore abbia scelto la via della delocalizzazione. Il comandante provinciale Antonio Caputo raccomanda massima attenzione perché la contraffazione è un fenomeno criminale, pervasivo e in continua evoluzione.